Nel febbraio di quest'anno ha festeggiato il ventesimo anniversario della medaglia d'oro di Alberville e il decimo della memorabile vittoria di Salt Lake City. Stefania Belmondo, la fondista che più ha vinto fra tutte le atlete italiane nella disciplina dello sci nordico, è stata ospite del Panathlon Valle d'Aosta giovedì 31 maggio per raccontare la sua luminosa carriera sportiva e per ripercorrere con i ricordi le sue vittorie e quella organizzata a Palazzo Regionale è stata anche un'occasione per ricordare le emozioni legate alla Valle d'Aosta. Siccome sono qui in Valle d'Aosta ci pensavo prima e immaginavo la vittoria dei Coppa del Mondo a Cogne, la vittoria di Brusson e ricordo anche il mio preparatore Massimo Lora anche qui ancora e tutto quanto e invece con un po' di tristezza vabbè ricordo la bella vittoria della Transjurassian in Coppa del Mondo ma lì c'era il mio grande ski man Giuseppe Gontier che comunque ricordo con tanto affetto purtroppo non c'è più però nei miei pensieri c'è sempre lui. Per Stefania Belmondo parla soprattutto il suo curriculum sportivo, 10 medaglie vinte ai giochi olimpici, 13 campionati mondiali, 24 gare vinte in Coppa del Mondo, 35 titoli nei campionati italiani assoluti, un esempio importante il suo soprattutto per i giovani che intendono affacciarsi al mondo dello sport e dell'agonismo. Innanzitutto lo sport soprattutto lo sci di fondo, questi sport di fatica devono essere fatti con grande passione perché uno ci crede e non pensare di voler arrivare a tutti i costi subito senza lavorare, senza fare dei sacrifici, senza faticare perché io non ho mai trovato niente di facile, di semplice, anzi le cose più sofferte poi alla fine sono le più belle. Stefania Belmondo ha messo gli sci ai piedi per la prima volta a tre anni e ha lasciato la sua carriera per stare assieme ai suoi due bimbi Mattias e Lorenzo. Io sono guardia forestale, lavoro a Cuneo, al provinciale e poi sono mamma e quindi credo che il progetto di ogni mamma sia quello di cercare di allevare nel mondo migliore i propri figli, cosa che secondo me è più difficile che vincere un'Olimpiade, però insomma ci provo. A presentare l'incontro a Palazzo Regionale, oltre al presidente del Panathlon Valle d'Aosta Cesare Balbis, anche l'assessore regionale allo sport Aurelio Margheretta. Abbiamo bisogno di queste giornate, qua devo ringraziare veramente il Panathlon per questo tipo di occasione, di opportunità, una testimonianza, un modo per confrontarsi direttamente con chi ha vissuto lo sport ad altissimo livello, ma anche chi ha voglia di confrontarsi, chi ha voglia di scambiare delle esperienze. Quindi la nostra piccola dimensione dà queste opportunità, degli esempi di grandi sportivi ma con la voglia di un'attenzione per il piccolo, per il dettaglio, una bella occasione.